Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Roberto Castelli, portiere del Real Park. Oggi è arrivata una bella vittoria nel derby contro l'Arcansiel Cafasse, una squadra la vostra che ha giocato un ottimo primo tempo, però forse nella ripresa vi siete un po' rilassati. Vabbè, primo anno di Serie D per noi ragazzi. Siamo una squadra nuova anche noi, con qualche innesto un po' più mirato per quanto riguarda le esperienze. Siamo una squadra che ha voglia di fare un bel campionato, di impegnarsi, di fare gruppo, che è la cosa principale. Poi ognuno ci mette nel suo, come sono entrato io nel secondo tempo, è la stessa cosa, come in tanti altri compagni. Chi è entrato ha dato il suo contributo, questa è la cosa più importante per noi, per il Mista e per tutti. Ad un certo punto l'Arcansiel Cafasse ha avuto a disposizione diversi tiri liberi, sei stato bravo anche tu a neutralizzarne diversi. Una squadra la vostra che adesso ha quota 6 punti in classifica, dove vuole arrivare il Real Park? Intanto vogliamo arrivare a fare un bello gruppo, che è la cosa principale, uno spogliatoio, che tutti siano contenti, siano uniti e poi giustamente tutti sognano, piace sognare, ma il bello è divertirsi. Un obiettivo per me c'è, per il Mista anche e per tutti, sarebbero i play-off. Se succede siamo contenti, se no siamo orgogliosi di essere una grande squadra, tutti assieme, uniti, che è la cosa più bella. Giuseppe Macchioda, giocatore dell'Arcansiel Cafasse. Oggi purtroppo è arrivata una sconfitta nel derby contro Real Park, una squadra la vostra che soprattutto nel secondo tempo sembrava di poter riagguantare questa partita. Poi troppi errori nei tiri liberi. Decisamente, infatti bisognerà lavorare tanto e ci impegneremo per fare un buon campionato. Purtroppo abbiamo poca esperienza e bisogna rendersene conto di questa cosa qua. Comunque secondo me lavorando tanto arriveremo a buoni risultati. Non è stata comunque una bruttissima partita, a parer mio. Speriamo in futuro. La vostra è una squadra molto giovane, tra l'altro tanti ragazzi arrivano dal calcio a 11. Forse oggi si è visto proprio in campo che manca ancora l'idea e la mentalità dal calcio al 5. Comunque le basi per lavorare bene e per fare un buon campionato di Serie D ci sono tutte. Sicuramente, infatti l'ho puntualizzato prima. Purtroppo, come hai detto te, c'è gente che ha giocato a 11, gente che purtroppo non ha mai giocato, ma con i piedi devo dire che se la cavano. Quindi diciamo che gli schemi di stop e queste cose qua verranno fuori dopo. Secondo me, ripeto, si può fare un buon campionato e speriamo di non ripetere più errori come questi di stasera perché nei tiri liberi il 90% devono andare dentro.